Musica Ha tentato di rapinare un furgone portavalori dell'All System che si trovava di fronte all'ufficio postale di via Montale nel quartiere Valletta a Torino è accaduto oggi, venerdì 4 maggio, in tarda mattinata a dare l'assalto al furgone, armato di uno scacciacani un vigile del fuoco di 32 anni, sospeso da qualche mese la guardia giurata ha reagito sparando tre colpi di pistola e una pallottola ha raggiunto il rapinatore all'addome soccorso è stato ricoverato all'ospedale CTO sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di oltre d'ora l'uomo lavorava a Torino a Torino Grazie.